Giorgio Di Palermo, membro del board dell'ATP, era oggi sugli spalti della Road Lever Arena. Sentiamo che ha detto. Federer ha vinto contro un Nadal vero, contro un Nadal che l'altra sera contro Dimitrava ha dimostrato che era un Nadal di straordinaria consistenza. Oggi avrebbe perso la partita se non avrebbe avuto quello spunto di poter fare qualcosa di diverso e continuare sui livelli del primo e del terzo set. Tutti i meriti a Roger ha vinto contro avversari sicuramente fortissimi. Ovviamente il tennis ha bisogno, ci sarà un momento in cui dovremo farne a meno e quel giorno sarà tristissimo. Per ora dobbiamo prenderci tutto quello che ci può dare questo campione straordinario. Grazie.